quando mancano meno di 100 metri e si parte la più veloce gemma a largo veleggia giunone pax in terza posizione galatea a precedere gioiosa e ginger call forze tempi giunone pax al paletto di 200 metri in 15 e 2 passa al comando sulla stessa gemma terza galatea a precedere gioiosa e ginger call va in mano adesso massimo zamca dopo lo strappo per passare al comando e così i 400 metri iniziali se ne vanno in 32 un filo scarso fila indiana tranne che ginger call affianca in quarta posizione a largo gioiosa e così si arriva al paletto dei 600 metri che la battistrada copre in 48 e mezzo fila indiana con la solita ginger solo ginger call che resta a largo adesso una mezza ruota da parte di galatea pax che poi torna dietro in terza posizione si arriva agli 800 metri in 1 e 4 si va da 1 e 20 adesso galatea mette decisamente la testa in fuori va a largo affianca gemma e punta sulla battistrada mentre dietro galoppa ginger call così si affronta la penultima curva è un chilometro trottato in 1 20 e mezzo con giunone pax leader gemma e galatea paiati dietro a una decina di metri in quarta posizione gioiosa 1200 percorsi in 1 e 35 con galatea che adesso fa si fa più minacciosa a largo di giunone pax che per il momento controlla gemma e dietro le due perde un po di metri invece gioiosa dietro mille quattro in 1 e 50 15 e 2 di parziale stanno andando discretamente forte queste queste femminucce con giunone che adesso allunga e galatea è costretta a mettersi scia terza gemma 2 5 e mezzo per il mio con giunone pax che continua la marcia in avanti galatea prova a non perderla di vista perde invece il contatto gemma e si fa in ingresso indirittura arrivo con le due compagne di paddock a lottare per il successo giunone al comando e galatea che adesso torna di nuovo al suo esterno è una lotta 2 con galatea che sembra poter prendere la meglio all'ingresso indirittura arrivo a paria giunone la passa proprio ai 200 finali prendendo una lunghezza di vantaggio galatea pax allunga ai cento finali lascia alle sue spalle giunone gemma ancora più lontano gioiosa galatea pax va a segno davanti a giunone pax per il terzo gemma poi gioiosa sul mio cronometro 2 52 e mezzo siamo nell'ordine dell'1 18 e mezzo sui 2200 metri il successo senza storie di galatea pax colori del signor andrea ciampallari il training di antonino porzio la guida da catch di andrea buzitta al secondo il 5 di girone pax a terzo 2 di gemma 152 è l'arrivo della prima da siracusa favorita poco più alla pari euforia jet in salita in salita da tutti gli altri Elsa 6 Erenio Mais 7,50 Elodie Jack appunto qualche simpatizzante 5 contro 1 quando si parte dall'esterno eclettico club Elodie Jack con eclettico che scende alla corda si presenta subito Elodie Jack in terza posizione resta Erenio Mais 200 metri iniziali in 13,3 con Elodie Jack che attacca e passa, è poco prima dell'imbocco della prima curva e la nuova battistrada, Erenio Mais in terza posizione precede il resto del gruppo capeggiato da esclusivo Galli, 400 metri iniziali se ne vanno in 28,6 allunga Elodie Jack in questo strappo e così si forma una lunga fila indiana rotta solo da due parie ma in fondo al gruppo, 600 metri iniziali veloci in 42,1 13,5 quest'altra fazione con Elodie Jack che ha preso la mano da Andrea Buzitta terzo resta sempre Erenio Mais quindi esclusivo Galli avanza a largo adesso Euphoria Jet in mezzo miglio in 58 in 59,5 con Elodie Jack che adesso non vede mutare il suo vantaggio dietro si fa un po' più fatica il chilometro in 1,12,7 Euphoria Jet non riesce più a andare avanti in leggera difficoltà anche Eclettico Club che viene scavalcato da Erenio Mais ma Elodie Jack è sempre davanti per il momento e prova da lungo anche in dirittura arrivo con Erenio Mais al suo inseguimento a largo Euphoria Jet senza argomentazioni e quindi resta troppo dietro per poter lottare per un compenso Elodie Jack deve guardarsi solo dall'affondo di Erenio Mais che si avvicina però non recupera granché Elodie Jack si difende fin sul palo da Erenio Mais terzo conclude esclusivo Galli davanti a Epica Daghi 1,57 siamo nell'ordine l'1,13,1 gran percorso di Elodie Jack i colori del signor Claudio Arceri il training di Andrea Buzitta che fa subito quick double dopo il successo in apertura con Galatea Pax al secondo posto termina un ottimo Erenio Mais al terzo l'1 di esclusivo Galli 7,31 è l'arrivo della seconda da Siracusa a l'1 di esclusivo e si parte dall'interno buon lancio da parte di Enzo Del Ronco a largo e soggetto all'interno Erba Holtz in terza ruota subito FBGF a fare pressione sui due davanti 13.4 di lancio con FBGF che fa pressione sui soggetti che nel frattempo scavalca Enzo Del Ronco leader dopo 400 metri in 28.4 FBGF che scavalca a sua volta e soggetto tre cambi di posizione nel giro di 400 metri si arriva ai 600 che vengono passati in 43 numero 3 squalificato a tabellone egalità prosegue FBGF su S-O-Jet Enzo Del Ronco a largo prova a farsi vedere invece Eros Col 800 metri in 58.1 con FBGF sempre davanti a S-O-Jet che perde qualcosina Eros Col lo acciuffa quando mancano 600 metri all'arrivo quindi Enzo Del Ronco e prova a farsi sotto anche Edgard SM FBGF prosegue in avanti adesso S-O-Jet si avvicina attacca FBGF proprio allo scurvare all'ingresso addirittura arrivo FBGF è soggetto alle prese poi rinviene Edgard SM su Eros Col che è stanco poi Erba Ols e via tutti gli altri FBGF il retta d'arrivo allunga improvvisamente prende vantaggio a tutti c'è lo scatto dalle retrovie di Erba Ols che si avvicina a minaccioso FBGF in calo e So-Jet lo stesso lo scatto di Erba Ols è sul traguardo Erba Ols e Stefano Tamburlano su FBGF ed è So-Jet 1-58-8 1-14-1 il successo di Erba Ols Stefano Tamburlano alla guida e alla proprietà per il treno di Antonino Pegoraro Union al secondo FBGF al terzo e So-Jet 1-6-5 è l'arrivo della terza da Siracusa Bene eccoci qui per la consueta ormai il consueto appuntamento con la premiazione dei protagonisti che si sono messi in evidenza in questo caso nei mesi di luglio e settembre 2024 ieri abbiamo premato Barbara Consiglio per il Galoppo questa volta toccherà a Gaspare Lo Verde sicuramente meritatamente Francesco Sirchia per Sicilia Corsi News e Dottor Fasano per la GLF mettono insomma portano avanti questa bellissima iniziativa Francesco premiamo quest'oggi Gaspare Eh sì così come per il Galoppo non è stata una scelta facile il Lami è arrivato proprio dal 28 settembre con i due secondi posti nel criterium di Gigi Adà e di Grullo Clan considerando anche che con i Puredri Lo Verde da Papà Biaggio a Gasper adesso hanno fatto veramente epoca e continuano a fare epoca con i loro cavalli mi è sembrato giusto premiarli anche perché sono state due prestazioni notevoli hanno fatto la propria qualifica hanno vinto al debutto e poi hanno fatto questo secondo corso correndo sotto i due minuti del criterium e poi con la novità che è Grullo poi è stato anche venduto poi chiederemo quindi meritato sia per quello che ha fatto in precedenza sia per queste prestazioni e perché con i Puredri la ditta Lo Verde è sempre una garanzia il dottor Fulvio Fasano consegna la canonica targa a Gaspare e Sicilia Corsa News il fermacarta in cristallo con il nome di Gaspare allora Gaspare Grullo Clan è andato via però a vendonde perché mi parlano di una cifra che non rifiutabile facciamo girare anche la moneta come si so dire sì diciamo che non abbiamo cercato noi di venderlo ovviamente sono arrivate delle richieste diverse richieste a me e all'allevatore che con cui l'avevo in società e quindi a quel punto abbiamo ceduto e bisogna mettere in conto anche questo un po' a malincuore nel senso perché il Puledro l'abbiamo cresciuto da quando era piccolo quindi poi è diventato secondo me un buon cavallo un buon Puledro però queste cose vengono vengono e bisogna anche tenerle in considerazione tra l'altro mi sento di dire che è cresciuto notevolmente nel giro di poco perché tra qualifica debutto vincente in Siracusa e la prestazione del criterium c'è veramente tanta roba sì sì effettivamente già lui mi ha dimostrato nei lavori fatti a Palermo prima della qualifica che fosse un buon Puledro e io ci sono andato con calma e ho debuttato qui a Siracusa non partendo mi sono messo dietro ho fatto solo la retta d'arrivo poi nel criterium invece ho dovuto fare un po' di partenza lui ha risposto ovviamente anche io non mi aspettavo magari che facesse questa corsa però effettivamente mi ha dimostrato quello che pensavo hai qualcuno su cui puntare in questo momento tra qualcuno che ancora deve debuttare sul quale c'hai tanta fiducia? c'è l'altra femmina che è arrivata secondo il criterium che adesso si trova nella scuderia di Montecatini che correrà a Firenze martedì la batteria dell'Anact questa è una cavallina discreta poi ci sono altri Puledri che io ovviamente ho fiducia e anche alcuni che si devono qualificare e quindi c'è qualcosa però non si può dire niente adesso ultima domanda che ti faccio naturalmente non posso non fare insierro come giudichi la prestazione di Treviso e quali sono i suoi programmi? La prestazione di Treviso secondo me la corsa è venuta male tattica sono venuto via in un momento che hanno aperto i rubinetti però il cavallo secondo me non era al 100% a quel punto abbiamo fatto i controlli gli esami erano tutto ok dovemmo guardare solo la respirazione e vedere un po' com'è e poi andremo dritti verso Capanelle per il gruppo 1 e facciamo quella corsa di Triosi perfetto ringraziamo Gasper e rinnoviamo i suoi complimenti perché davvero per la Sicilia è un nome importante ha sempre dato lustro io mi ricordo ancora il primo successo importante di Papà Biaggio con Tina Camò e da allora da quella serata i risultati sono sempre venuti a ruota libera e adesso tocca a lui difendere il nome bel nome del Scuderia Loverde poco più di pari Deimos il Ciceo favorito contro favorito l'uno di Creed Matri a tre contro uno in chiusura un paio di concorrenti di galoppo e si parte Creed Matri prova a difendere lo steccato si presenta subito Deimos del Ciceo 200 metri iniziali in 14.2 Creed per il momento resta davanti in terza posizione seconda la corda Damita di Venere insiste Deimos su Creed Matri i cavalli fanno ingresso per il primo passaggio sotto le tribune in quarta posizione segue Corallo DLS Deimos continua il suo attacco a Creed Matri 600 metri si vanno in 44.5 forza forza ai tempi Deimos proprio al primo passaggio e passa al comando con uno strappo notevole perché si parla di 57.5 per i primi 800 metri ovvero da 1 11 e 9 terza resta sempre Damita poi Corallo DLS prova a venire da dietro anche Daiquiri 13.8 per il primo chilometro con Deimos sempre leader quindi Creed Matley terza posizione sempre Damita a largo gradatamente Daiquiri Fisi riporta sotto 27.8 per i 1.200 con Daiquiri che raggiunge la testa della corsa va a parigliare Demos e lo passa in men che non si dica quindi Daiquiri Fisi leader Donato resta a largo ai fianchi di del compagno di allenamento il miglio di Daiquiri Fisi in 1.59 e mezzo adesso Demos del Cicceo si riprende Daiquiri Fisi sembra mollare un po' la presa e così si riporta sotto terzo è sempre Creed Matley i cavalli percorrono l'ultimo tratto della curva finale adesso Daiquiri Fisi prende coraggio e riallunga al suo inseguimento Demos la corda e Creed Matley a largo quindi ancora Dirty Dancing siamo ai 200 finali con Daiquiri che ha una decina di metri di vantaggio sugli avversari la lotta però sembra risetta per il secondo posto perché Daiquiri Fisi ha messo tutti d'accordo con Natale Cintura e si impone nettamente a Creed Matley Demos del Cicceo e Dirty Dancing sul mio cronometro 2.45 ovvero 1.15 sui 2.200 metri il successo di Daiquiri Fi i colori del signor Rosario Vaccaro il training e la guida di Natale Cintura 5 1 7 è l'ordine d'arrivo della quarta Siracusa Cintura e si parte di galoppo follow me be parte forte frontiera S che Nunamen si porta al comando su Fast Lady Man e Fiona May ZG che si presenta in poche battute e a paletto di 200 metri con lancio in 36 passa al comando sulla stessa frontiera quindi First Lady Man, Fedra, Pax ancora Framar via via tutti gli altri, continua a galoppare sia Fanny Face che follow me be 400 metri iniziali in 28 e 9 con posizioni che restano invariate Fiona al comando su frontiera First Lady, Fedra, Pax e Framar si va sulla retta di fronte 600 metri iniziali in 42 e 8 con posizioni cristallizzate adesso muove Andrea Buzitta e si porta sulla testa della corsa il galoppo di Fiona May 59 e 2 passa nel frattempo First Lady Man in seconda posizione a largo Fedra, Pax poi ancora il 4 di frontiera S numero 5 qualificato l'8 di Framar 1 14-1 cala First Lady è passata invece Fedra, Pax attaccata da Framar quindi si muove dalla terza posizione in corde frontiera S prendendo la schiena di Framar si fa ingresso indirittura arrivo con Fedra, Pax che deve respingere Framar che si mette falsa e finisce con lo sbagliare quindi Frontiera S First Lady Man a lunga Fedra, Pax inseguita dalla sola Frontiera S siamo ai 150 finali frontiera a caccia di Fedra, Pax Fedra, Pax sembra poter controllare tutto e tutti Fedra, Pax la porta a casa su Frontiera S con First Lady Man terza gli altri col quarto posto di First Lady Daniel 1-58-8 siamo nell'ordine dell'1-14 14-1 il successo di Fedra, Pax con l'interpretazione di Giuseppe Zanca che neanche l'allenatore i colori del signor Piero Cucinotta al secondo posto il quattro di Frontiera S al terzo l'uno di First Lady Man 3-4-1 e l'arrivo della quinta da Siracusa quest'ultimo è il favorito in discesa da 3 a 2,85 a 5,50 troviamo Zapata Rab Black Block Alor e Abracadabra F quando lo starter lascia i cavalli con Black Block e Cannibal FI in lotta seguiti da Depeche Club continua Cannibal a chiedere strada a Black Block lancio in 12-8 segue interessata Depeche Club davanti a Bocca Dorata quindi Cracco P Abracadabra F e via via tutti gli altri chiusi da Dulce De Lece primi 400 metri in 27-1 14-3 la seconda frazione con Black Block che resta davanti Cannibal FI che prova sistemarsi terzo senza riuscirci perché Bocca Dorata Serra alle spalle di Depeche Club 49 i primi 600 metri ancora una frazione in 13-8 con Black Block Color e Andrea Buzitta che hanno preso il via in maniera indiscussa e arrivano al mezzo miglio in 57 spaccati da 1 11-2 dal fondo del gruppo prova a risalire anche Corsaro Nerofonte insieme a Abracadabra F si arriva all'imbocco della curva finale primo chilometro di Black Block Color in 1-12 spaccati prova a muovere Cannibal FI che nel frattempo scavalcato Depeche Club seguito da Bocca Dorata poi a largo si fa vedere Corsaro Nerofonte che subisce l'anticipo di Cracco P si entra addirittura arrivo con Black Block che ha finito le sue energie superato da Cannibal FI su di lui scattano Cracco P e Corsaro Nerofonte ancora più a largo invece Bionda De Gledis è un arrivo palpitante con Cannibal FI che deve difendersi da Cracco P poi Corsaro Nero e Bionda De Gledis a largo di tutti Cannibal FI ha fatto un qualcosa dimostruoso Cannibal FI assegno su Bionda De Gledis Cracco P e Corsaro Nerofonte 1-57 1-13 3 praticamente tutta strada hanno scoperto Cannibal FI colori del signor Benedetto lo giudice il training è quello di Francesco Paolo Conticelli alla guida di Angelo Basso Junior al secondo posto conclude probabilmente il numero 8 di Bionda De Gledis che è proprio a fil di palo vediamo lo slow motion se ci aiuta dovrebbe aver battuto il 5 di Cracco P